Nell'ultimo giorno di gennaio in Abruzzo si sono registrati 402 nuovi casi positivi al covid-19 di età compresa tra i 5 mesi e 93 anni che hanno portato il totale dall'inizio dell'epidemia a 42.846 positivi registrati in regione. 59 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 100 in quella di Chieti, 145 in provincia di Pescara, 86 in quella di Teramo con 12 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore complessivamente 14.468 test, 3.750 tamponi molecolari e 10.178 antigenici rapidi con un tasso di positività complessivo del 2,78%. 5 pazienti deceduti che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia a 1.467, 30.892 sono i guariti con 207 casi in più rispetto a ieri, pertanto sono 10.487 gli attualmente positivi più 370 nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero scesi a 383 i ricoverati in area medica, meno 6 rispetto a ieri, 46 sono i ricoverati in terapia intensiva, 3 in più, mentre gli altri 10.058 positivi sono in isolamento domiciliare, 373 in più nelle ultime 24 ore.